... E inizia la parte bassa del cerchio, il box di partita che si tratta della formazione del cerchio, il nostro corso di un'altra, 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 Grazie a tutti! 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 Ma sei in grado? Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. 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 Andiamo. Sì. 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 Grazie a tutti. Senta Valde per il periodo in seconda. L'ambulanza a vuoto. Soccorso a strike. Senta Valde per il periodo in seconda. Soccorso a prender la scala. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti